Svelto! Dobbiamo andare all'aeroporto! Altrimenti perderete il volo! Vai! Portiamo! Pronti, bambini? Sì! Ciao, ragazzi! Io mi chiamo Chiara e sarò io a occuparmi di voi durante il volo! Ciao, Chiara! Ciao, Chiara! Bene, coniglietti! Fate buon viaggio! E mi raccomando, fate i bravi! Fra poco voleremo in alto! In altissimo nel cielo! Come gli uccellini! Come gli uccellini? Venite, saliamo a bordo! Ciao, ciao, mamma! Ciao, ciao, papà! Ciao, ciao! A presto! Ciao e divertitevi con il nonno e la nonna! Ehi, sei contento? Finalmente in aereo! Oh no! La mia macchinina! Voglio la macchinina! Aspetta! Aspetta, Gaspare! Adesso schiaccio il pulsante per chiamare Chiara! Sì! Chiara! Chiara! Che succede, Simone? La macchinina di Gaspare! È caduta per terra! Dobbiamo trovarla subito! Va bene, ma la cercheremo dopo! Adesso dobbiamo allacciare le cinture perché stiamo per decollare! Ma è super importantissimo trovarla! Se no, mio fratello Gaspare piangerà per tutto il tempo! È vero! Piangerà per tutto il tempo! Non preoccuparti, ho una cosa molto speciale per te! Torna subito! La mia macchinina! Ecco, Gaspare, ti piace? Wow! Un aeroplanino! È tutto tuo! Poi troveremo la macchinina! Grazie mille, Chiara! Chiara!